I poliziotti del commissariato di Canicatti stanno indagando su una serie di acquisti truffa realizzati a danno dignari titolari di carte prepagate. Sono infatti una decina le denunce raccolte dagli investigatori negli ultimi giorni da parte di persone che si sono visti a debitare pagamenti per somme relative ad acquisti mai effettuati. Le vittime hanno segnalato non solo acquisti di beni mai fatti ma anche prelevamenti di denaro contante che hanno ridotto l'ammontare dei loro risparmi. Da capire se le carte siano state clonate o se qualcuno si è riuscito a impossessarsi dei dati sensibili delle persone offese. L'indagine è a carico di ignoti e adesso i poliziotti stanno cercando di individuare i responsabili.